pallone in profondità fischia la fine è finito il derby zero a zero finito il derby zero a zero mister in diretta siamo un po' rammaricato Piero un po' rammaricato e qual è il problema? e perché? vediamo certo che vediamo mister un po' rammaricato insomma alla fine abbiamo tentato anche di vincerla con con oh mamma mia lasciamolo stare oh mister 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 anche il presidente allora mister siamo in diretta alla fine abbiamo tentato di vincerla con Dascoli con tre punti Fratianne e poi Capodilupo insomma abbiamo tentato di vincerla sì 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 abbiamo tentato abbiamo fatto tutto però niente ci sono anche gli avversari sono stati bravi penso che alla fine insomma più o meno è giusto anche se insomma qualche decisione è stata un po' eccessiva penso sì l'arbitro è anche un po' protagonista bisogna dire sì sicuramente però va bene così dai diciamo che siamo tutti contenti non ci sono né sconvitti né vincitori quindi siamo tutti sconvitti poche occasioni da rete alla fine intanto se Piero ci può inquadrare le squadre che vanno a salutare vanno a salutare poche occasioni da rete sicuramente poche quelle poche le abbiamo avute noi però non è bastato va bene così sempre primi allora presidente Michele De Rosa vieni intanto se continui a inquadrare le formazioni Piero per gli amici che ci seguono in diretta gli amici addirittura ci hanno detto che attraverso il sito ci seguono dal Canada, dal Florida, dagli Stati Uniti insomma presidente insomma tutto sommato uno zero a zero giusto anche se voi alla fine lo dicevamo con il tecnico Gerardo Natale avete tentato con tre punti di vincere la partita eh sì abbiamo fatto di tutto per vincere la però purtroppo la cosa che dispiace è che la partita è stata molto 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 spezzettata ci sarà stato un gioco effettivo minimo e questa è l'unica cosa l'unico rammarico comunque insomma siete restate comunque sempre prima e primi il campionato è ancora molto lungo bisogna continuare a dare continuità a questi risultati ma questo sì siamo ancora all'inizio siamo alla non aggiornata quindi il campionato è lungo noi eh vuol dire che ci rimettiamo a lavorare pensiamo già alla prossima partita grazie presidente grazie mille grazie presidente De Rosa intanto continuiamo a vedere le squadre in campo Gino Magnisi un zero a zero tutto sommato giusto sì sì tutto sommato penso che andiamo a casa tutti quanti tranquilli e tutti quanti anche sugli spalti sono rimasti contenti di una partita un po' sofferta una partita che ha portato comunque al pareggio entrambe le squadre è sicuramente un risultato giusto non ci resta altro che salutare tutti gli amici che hanno seguito la diretta e sentite ancora questi sono i Sant'Agata sì questi sono i Sant'Agatesi, gli Ultras e dicevo salutiamo tutti i Sant'Agatesi che sono fuori quelli che hanno seguito la diretta ringraziamo Antonio Villani e i suoi amici Gianiorio qui presenti l'equip e i Sant'Agatesi nel mondo chiaramente direttanti Foggia grazie per esserci qui vicini sempre come sempre grazie a Gino Magniso, Giovanni Vivolo non so avevamo chiamato anche il presidente della Sant'Agata Diego De Vento ma è andato lì lo avevamo qua se ne è scappato ciao Stefano Volpe Stefano vieni Stefano Stefano ciao Stefano ci vediamo ciao perfetto allora dobbiamo chiudere da Giovanni Vivolo proprio una battuta prima di chiudere questo questo collegamento in diretta qui con Hd insomma Giovanni 0 a 0 tutto sommato positivo per l'Altemisium diciamo ma giusto anche nel complesso della partita eh sì giustissimo lo 0 a 0 all'Altemisium va benissimo lo 0 a 0 è un risultato così è ottimo per l'Altemisium anche se l'Hd ha giocato forse un po' meglio perfetto grazie Gino Magniso grazie Giovanni Vivolo chiudiamo con Vincenzo Calasso insomma Vincenzo siamo venuti in questo lembo di terra eh abituati a stati di serie D di eccellenza con numeri incredibili di ehm tifosi al di là della partita al di là dello 0 a 0 al di là di tutto quello che vogliamo però quello che ci ha colpito e che ha messo a segno un bel 3 a 0 è stato il pubblico sì sicuramente nonostante la pioggia nonostante tutto eh i tifosi sono aumentati e sono rimasti fino alla fine a incitare le proprie squadre quindi questo sicuramente è il migliore risultato di oggi poi d'altra parte in campo eh abbiamo visto un buon nervosismo la voglia di vincere da parte di entrambe le squadre che ha apposto da questo 0 a 0 con con pochissime occasioni ma tanta grida e tanta volontà di fare bene in questa e abbiamo visto anche per le altre partite abbiamo visto due squadre oggi eh alla pari in campo al di là del risultato in modo di giocare hanno hanno messo a punto una difesa eh le difese entrambe eh magistrali con le le chiusure eh su 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 lunghi verticalizzazioni e tutto qui insomma. Perfetto è tutto da Accadia vi abbiamo trasmesso in diretta l'incontro di calcio con l'Euro e il camminato di prima categoria campano tra l'Artemisium Sandaga dell'Accadia siamo stati in diretta da Accadia veramente davvero una giornata splendida dal punto di vista delle coreografie meno splendide per quanto riguarda invece le le condizioni atmosferiche però va bene così ringraziamo anche Giovanni Vigolo e Gino Magnisio che ci hanno come al solito ogni volta che veniamo da queste parti ci hanno offerto grande grande eh disponibilità. È tutto per il momento grazie Piero possiamo chiudere con questo collegamento. Grazie. 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 Grazie.